Ben tornato Cutier, ben tornata. Continuiamo questa lezione relativa alle modifiche impostazioni PC seguendo la terza parte. La sezione OneDrive che sarebbe la naturale prosecuzione non la spiego in quanto per un impiego ottimale questa sezione richiede di collegare un account Microsoft che normalmente non è utilizzato durante la spiegazione di questa guida e anche io non utilizzo per i dispositivi fissi. Proseguiamo quindi con la sezione ricerca e applicazioni. Che cos'è questa sezione? Dalla Chance Bar avvia normalmente impostazioni PC e poi clicca su ricerca e app qui rappresentato da questo screenshot. Si aprirà una nuova schermata nella quale troverai altri pulsanti che sono ricerca, condivisione, notifiche, dimensioni applicazioni e impostazioni predefinite. Partiamo dalla prima ricerca. Cliccandoci sopra da questa sezione puoi gestire alcuni parametri delle ricerche online, quelle che effettuerai. Un pulsante cancella ti permetterà di rimuovere la cronologia delle ricerche che hai eseguito in precedenza. Se per le tue ricerche utilizzi il motore Bing della Microsoft dovrai abilitarlo tramite un cursore e successivamente potrai eseguire altre impostazioni dedicate per questo specifico motore, altrimenti puoi senz'altro lasciarlo disabilitato se utilizzi altri motori di ricerca. Nella sezione condivisione puoi attivare o disattivare due cursori che ti consentono di mostrare le applicazioni e i metodi che normalmente utilizzi per condividere i contenuti tramite il tuo computer. Puoi scegliere il numero di elementi che puoi visionare nell'elenco oppure cancellare. Subito sotto una lista delle applicazioni ti consente di attivare o disattivare i contenuti che condividerai tramite queste applicazioni. La sezione notifiche ti permette di gestire le notifiche delle applicazioni attivando o disattivando dei cursori. Puoi definire quindi se le applicazioni ti possono, passami il termine, disturbare per notificarti con dei messaggi e anche quando consentire questo disturbo in alcune fasce orarie. Dalla sottosezione mostra notifiche da queste applicazioni puoi scegliere dalla lunga lista delle applicazioni nel dettaglio quale applicazione è libera di eseguire le notifiche che ti allerteranno. La quarta sezione dimensioni applicazioni semplicemente ti evidenzia il peso della singola applicazione e quindi quanto spazio di archivazione occupa sul tuo PC. Qualora un'applicazione non la dovessi utilizzare potrai certamente disinstallarla selezionandola appunto dall'elenco e cliccando poi sul pulsante relativo. Nell'ultima sezione impostazioni predefinite puoi impostare o variare le applicazioni predefinite per l'apertura di un determinato file. Ad esempio per ascoltare oppure vedere filmati multimediali potrai selezionare una determinata applicazione invece di un'altra. Stesso dicasi per la scelta di un browser per navigare o per un programma di post elettronica. Qui rappresentato uno screenshot che ti permette di visionare quali applicazioni quali programmi sono a questo punto predefinite per l'apertura di uno specifico file e naturalmente potrai cambiarlo a tuo piacere. Se per una determinata operazione o per l'apertura di un determinato file non è associata alcuna applicazione per la sua apertura o per la sua esecuzione da questa sezione potrai impostare appunto il collegamento per il file o per l'operazione da eseguire e il rispettivo programma da un menu che ti si viene a creare cliccando sulla corrispondente estensione o file. Allora Goodlier andiamo a fare come sempre un po' di pratica, avviamo la Chums Bar, clicchiamo su Impostazioni, Modifica impostazioni PC e al presentarsi della schermata delle impostazioni e andiamo a individuare la nuova sezione. Giusto per completezza, dato che abbiamo detto che la sezione OneDrive non la spiegherò, ti faccio notare che per archiviare naturalmente le informazioni su OneDrive che è un hard disk virtuale ti è necessario accedere al PC con un account Microsoft per poter salvare tutti i file e mantenere una sincronizzazione dei vari file, delle varie foto ed impostare eventualmente il tipo di connessione del tipo flat o invece ce l'avessi a consumo ma torniamo a cliccare quindi sulla sezione ricerca applicazioni. Dal primo pulsante puoi cancellare la cronologia di ricerca qualora tu l'avessi già eseguita, quindi puoi senz'altro cancellare la ricerca eseguita in locale, confermiamo per la cancellazione. Poi se utilizzi normalmente per le tue ricerche il motore Bing della Microsoft dovrai attivare questo cursore ed eseguire altre impostazioni a piacere tuo per poter ottimizzare questo piano di ricerca. Io normalmente non utilizzo questo motore e quindi lo tengo disattivato. La sezione condivisioni ti permette di gestire due cursori che puoi attivare e disattivare con la possibilità di impostare un numero di elementi di un elenco che corrispondono al numero di applicazioni che normalmente utilizzi e anche l'elenco dei metodi di condivisione che normalmente utilizzi. Puoi anche qui cancellare questo elenco qualora ne presentassi già uno. Sotto trovi una serie di alcune applicazioni, anche se fornite di cursore che puoi attivare e disattivare che in pratica possono essere alcune delle applicazioni che utilizzi per la condivisione dei tuoi file. Il pulsante notifiche ti permette di entrare nella zona della gestione delle notifiche. Tramite dei cursori potrai selezionare, attivandoli o disattivandoli, delle impostazioni relative alle notifiche che i vari programmi e le varie applicazioni ti possono fornire e inoltre se attivo puoi gestire le fasce orarie che consentono a queste applicazioni di notificarti a schermo varie informazioni. Puoi anche disattivare eventualmente le chiamate nella fascia non interattiva tra te e le applicazioni. Sotto trovi una lista di applicazioni abbastanza corposa che ti permetterà di essere attivata o disattivata nella quale potrai decidere quali delle applicazioni installate sul tuo PC, sul tuo dispositivo ti può fornire le notifiche. Il pulsante dimensioni applicazioni ti permette di fornire informazioni dello spazio disponibile e dello spazio occupato, quindi della presentezza, delle varie applicazioni installate sul tuo computer che nel caso in cui non utilizzassi potrai semplicemente disinstallare cliccandoci sopra e confermando con il tasto disinstalla. Ecco qui. L'ultimo pulsante, impostazioni predefinite, ti fornisce l'elenco delle applicazioni che normalmente utilizzi per alcuni tipi di file o applicazioni e che puoi comunque variare. Ad esempio, nel mio caso, come browser predefinito, ho in questo specifico computer MaxTone, il client DML o Windows Live ML e il lettore musicale è VLC, mentre quello delle foto è il fanview. Cosa che puoi comunque cambiare e selezionare dall'elenco che ti si presenta cliccando sopra l'icona. Puoi anche scegliere una specifica applicazione per un determinato tipo di file. Ad esempio, per i file .aac, cliccando sul pulsantone più, potrai scegliere e impostare l'applicazione che andrà ad aprire questi determinati file, quindi i file che hanno quella estensione. Così potrai far acquisire la corrispondenza del file con le applicazioni, senza passare per la richiesta del sistema operativo che ti si evidenzierà qualora un determinato file non è associato all'apertura con una determinata applicazione. Torniamo indietro e stesso discorso puoi fare per i protocolli relativi al sistema operativo. Anche qua potrai definire l'associazione tra i protocolli e l'applicazione, che potrai senz'altro cambiare come hai visto in precedenza, scegliendo il programma che si presenta dalla lista evidenziata in un menu. Infine, ultimo pulsante presente in questa sezione, questa lente apre un campo all'interno del quale potrai digitare ed eseguire una ricerca all'interno del tuo PC. Bene, nella prossima lezione continuiamo ancora a descrivere la sezione modifica impostazioni PC. Ora come sempre un forte saluto, ciao a presto da Carlo e alla prossima!